Ciao a tutti, come sedurre e manipolare con la psicologia inversa? In questo video voglio spiegarti come utilizzare la psicologia inversa, questa forma, diciamo, comunicativa, per sedurre e per manipolare, cioè ottenere i risultati che si vogliono ottenere. Quello che dobbiamo dire di proposito, fondamentale, è che la psicologia inversa non va confusa con una tecnica passivo-aggressivo, ma è, diciamo, una tecnica che si basa sullo spingere l'avversario, diciamo, o sullo spingere la persona che vogliamo sedurre nella direzione opposta. È un'arte sottile e intelligente che richiede, diciamo così, la furbizia di sapere allineare tatticamente l'idea che vogliamo venga presa con le resistenze e desideri altrui. E questo è, questa è la base, diciamo così, della psicologia inversa, cioè spingere la persona anche, diciamo, in modo sottile nella direzione opposta a quella che noi vogliamo che vada. La persona, diciamo, deve avere la sensazione di uscire vittoriosa quando in realtà esce sconfitta. Deve avere la sensazione di uscire seduttrice quando in realtà o sedotto, diciamo, o seduttore quando in realtà è stata sedotta o è stato sedotto. Ci sono alcune persone con le quali la psicologia inversa funziona meglio, che sono le persone polari, quelle che, se vuoi dirgli di andare al polo sud, deve ordinarli di andare al polo nord, però funziona, diciamo, un po' con tutte le persone. Ci sono diverse strategie. Una tattica, diciamo, si basa sulla negazione, cioè si offre alla persona che si vuole manipolare, persuadere, sedurre, una resistenza debole a non fare qualcosa o a fare qualcosa, nel frattempo, in questo modo, la si invoglierà, diciamo, a vincere questa resistenza e a superarla. Cioè, io ad esempio nella seduzione offro una resistenza debole, diciamo, al, tra virgolette, a lasciarmi possedere. Non mi dimostro particolarmente disponibile. E' ovvio che questa resistenza deve essere debole con alcune persone, più forte con altri, cioè il vincolo che io metto è, diciamo, in funzione di quanto la persona poi reagisce in funzione della sfida. Ci sono alcune persone che hanno bisogno di, come dire, di resistenze più forti e altre di resistenze più deboli. Ad esempio, anche, anche al ristorante, vuoi far pagare il conto a qualcuno, siete in tre, e tu dici, dai, no, no, dividiamo, perché non è giusto che lui paghi il conto per tutti. Non è giusto che lui faccia. In questo caso, mettendo questa, dicendo una frase del genere, la persona a cui gli si dice non è giusto che lui paghi il conto, beh, sentirà una spinta molto, molto forte a pagare il conto. Un po' per fare una bella figura, un conto per dimostrare qualcosa. Puoi farla ancora in modo più subdolo, dicendo, dai, non è giusto che lui paghi il conto. Lui è una persona generosa, però non è giusto che dimostri sempre la sua generosità in tutti i giorni pagando il conto. Beh, questo è un altro modo per, come dire, gli stai dando, gli stai facendo capire che lui è una persona generosa e se vuole mantenere questo status e se vuole mantenere questo status di persona generosa, dovrà pagare il conto anche oggi. E questo è un altro modo, diciamo, per indurre qualcuno a fare qualcosa. un'altra tattica, un'altra tattica, diciamo, una variante della psicologia inversa è quella dello svendere. Cioè, nel momento in cui vogliamo che ci sia una presa, ad esempio, su un prodotto si segna, si manda nella mente della persona in modo innocente un dubbio. Qualcosa, i dubbi, tendono a penetrare nella mente. ad esempio, se tu vuoi vendere un prodotto, per dire, degli hard disk da 250 gigabyte oppure in una gamma, diciamo, da 250 giga fino a 2 terabyte, è ovvio che cercherai di vendere quelli che costano di più e che hanno quindi una capienza maggiore. Ma se un cliente, diciamo, vuole spendere il meno possibile, quello che tu puoi fare, diciamo così, è svendere, tra virgolette, e fargli dare poca importanza alla capienza, ad esempio, e però gli vendi il suo mettendogli qualche cosa che non funziona. Cioè, gli dice, ad esempio, beh sì, questo va benissimo, è perfetto, però se se non vuoi essere completamente sicuro di poter salvare video e foto anche in futuro. Questa frase, diciamo, semina il dubbio che la propria idea è quella giusta. Cioè, rispetti, diciamo, l'altra persona ma ma gli semini il dubbio che la sua scelta sia quella sbagliata e quindi lo spingerà e diciamo a ripensare lui stesso alla sua scelta e quindi arrivare a spendere di più perché li metti in dubbio, l'insinuare il dubbio. Quindi, nella seduzione questa strategia può essere utilizzata in mille modi. Puoi dire una persona che non che diciamo capisci che non vuole avere una relazione con te puoi dire ma sì, è giusto che non che non ci frequentiamo anche perché comunque io adesso sto iniziando a vedere un'altra persona e quindi preferisco che non che non ci vediamo. Hai ragione tutti, sono d'accordo. Ecco, quindi tu gli stai dicendo va bene che noi non ci vediamo ma intanto io sto già vedendo un'altra persona in questo modo gli stai come dire stai seminando il dubbio che lui potrebbe non avere più questa possibilità di uscire con te. Poi ve ne sono anche altre ad esempio vi sono diciamo gli stratagemmi dell'autolesionismo che sono stratagemmi già che provenivano dagli antichi cinesi il presupposto è il concetto secondo cui nessuna persona di buon senso si danneggerebbe da sola cioè farebbe atti di autolesionismo e quindi la fiducia diciamo nei confronti del seduttore aumenta molto nel momento in cui questo seduttore mostri addirittura di danneggiarsi per affermare la velocità per affermare la verità di quello che lui sta dicendo quindi addirittura diciamo va contro qualcosa di qualche suo interesse ad esempio una cosa molto interessante cioè al punto tale di dire la verità una cosa molto interessante è stata la campagna del vecchio maggiolino della volkswagen vi ricordate il vecchio maggiolino con questa con questa forma strana e la campagna diciamo pubblicitaria di fatto è stata una campagna di autolesionismo perché gli slogan non esaltavano i pregi ma esaltavano i difetti del tipo dicevano rimarrà brutta più a lungo brutta solo fuori e questo diciamo serviva a creare una fiducia molto forte con con la persona perché se qualcuno come dire arriva a una strategia di autolesionismo cioè a mettere in discussione se stesso beh sicuramente diciamo è una persona che merita fiducia anche nella seduzione può essere utilizzata questa frase dicendo un qualcosa no guarda io te lo voglio dire è meglio che non non ci fidanziamo anche perché io sono una persona che ha bisogno dei suoi spazi ha bisogno poi ho anche un brutto carattere e guarda non ti consiglio non qui a me ho veramente un brutto carattere sono una persona che non ama viaggiare è un po' scorbutica un po' scontroso davvero un brutto carattere meglio che non che non ci frequentiamo beh in questo modo parlando del mio brutto carattere vado subito a creare un'empatia molto forte perché l'altra persona penserà che sono veramente una persona sincera ecco queste sono tutte strategie diciamo così che possono essere utilizzate per indurre una persona a fare qualcosa diciamo che altrimenti non farebbe bene per questo video è tutto se ti è piaciuto metti un like iscriviti al canale e ti informo che sul canale ti puoi abbonare abbonandoti potrai partecipare ad apposite live mirate e potrai ricevere delle risposte precise alle tue domande ciao a tutti